Dopo il secondo posto a Sanremo, Geolier è stato oggetto di polemiche praticamente ovunque e non poteva non inserirsi il buon Matteo Salvini che durante la trasmissione dritto e rovescio si è scagliato pesantemente contro l'artista napoletano Non aggiungo altro, ma vi lascio al filmato che parla da sé Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Non do un giudizio musicale, non ho competenza Sono ministro dei trasporti e in queste settimane stiamo lavorando al nuovo codice della strada per ridurre il numero dei morti in strada perché ho anche io due figli e per i ragazzi fra i 15 e i 24 anni la prima causa di morte in Italia sono gli incidenti in strada e quindi non entro nel merito delle polemiche musicali e del fatto che uno vada in video E qua non è che corre, il problema non è che corre con la... No, e però, se mi parli con semplicità e poi vendi tanto perché sei bravo perché ti ascoltano tanti ragazzini e metti nei pezzi delle tue canzoni la cocaina e l'alcol Le armi che ostentano Per quello che mi riguarda, se dici come se fosse normale non ho capito se lo zio, il cugino è pieno di cocaina e quell'altro beve non è un bel esempio perché la droga è merda Ogni droga è merda Grazie a tutti